Si stanno lottando non per una piccola vicenda personale, qui sta accadendo una cosa gravissima che si può cacciare, licenziare, chiudere senza ragione, senza motivo, senza preavviso, senza contrattazione. Quello che sta accadendo a Santa Maria di Sala da oggi poi se non dovesse essere fermato potrà accadere ovunque. Così Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, al presidio della Speedline per esprimere la solidarietà dei giornalisti e gli operai. Siamo con chi difende il lavoro, gli echeggia la segretaria regionale dei giornalisti veneti. Come ha detto il presidente, noi siamo qui innanzitutto per ringraziare questi lavoratori che da inizio dicembre hanno trascorso notti, giorni qui davanti per la dignità soprattutto del lavoro e perché la loro battaglia è la nostra battaglia, perché la battaglia per il lavoro è una battaglia che riguarda ognuno di noi. I vertici del giornalismo italiano e Veneto insieme a Tabina di Santa Maria di Sala con la delegazione dei 600 dipendenti a rischio licenziamento che salva una quota 800 con l'indotto per denunciare le anomalie di questa vicenda, raccontare quello che non va e può essere corretto in attesa degli sviluppi dell'incontro al Mise di venerdì prossimo 7 gennaio. E noi lo diciamo sempre, nessuno si salva da solo. Il giornalista è dentro che scrive la racconta, però la vive anche sulla propria pelle e purtroppo anche la dimensione del precariato. Per Giulietti questa è la Speedline, una tagliola che calpesta non soltanto l'articolo 3 della Costituzione con la dignità del lavoratore, ma a rischio, oppure l'articolo 21 sulla libertà di stampa. E se posso cancellare gli articoli della Costituzione sul lavoro e la contrattazione, posso anche cancellare gli articoli sulla libertà di informazione, ecco perché siamo qui non solo per solidarizzare con loro, ma per solidarizzare con tutti quelli che potrebbero finire in questa tagliola.